E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi siamo sul mio terrazzo a non fare nulla. Non lo so perché, ma oggi sto stanco. Allora, mi fa male il braccio, sono un bradico. Non lo so che fare. Boh, nel dubbio... Non lo so... Non lo so ora... Non lo so... Che dire o che fare. Allora, anzi, volevo dire che stasera, molto probabile il mondo, farò anche la reaction d'Italia-Austria agli ottavi di finale. Speriamo che vada tutto bene Che l'Italia vinca E tutti a festeggiare a fare pepepepepe No mi dissocio Non è vero Giuseppe non ti dissociare Per una volta che dico una cosa bella Mi dissocio Comunque In questo vlog Non so che fare Allora Il dubbio inquadro quella Quella canaruna Che sta sempre a comare Cioè allora cova Poi fa le uova Dentro le uova Non ci sta un cab Eh Penso che avete capito Non ci sta un cabbo Youtube per favore Non mi demonetizzare Per questa parolaccia Che ho detto Raga Io sinceramente Non lo so Che cosa fare Boh Non lo so Probabilmente più tardi Farò un video su GTA Sì Ci può stare Ci può stare Un bel videozzo Detto questo Vi ricordo di lasciare like Andatemi a seguire su Twitch Giuse20 Q0 Trattino in basso Su Instagram Giuseppe Pio Credend E anche qua Su Youtube Boh Detto questo Vado a preparare le cose Per fare il video Su GTA Dai Quindi Ciao 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 Ciao